Secondo contorno a base di carciofi. Per prima cosa prepariamo il condimento, la salsa. Ci servirà della scorza d'arancia, del succo d'arancia, dello zenzero grattugiato, un po' di sale, dei semi di sesamo e un po' di pepe a piacere. Puliamo i carciofi, rimuoviamo le parti esterne, la parte di gambo che non ci serve, eliminiamo anche la barba interna e poi andiamo in padella. Un filo d'olio rosoliamo leggermente i nostri carciofi, sfumiamo con la salsa che abbiamo preparato e lasciamo cuocere a fuoco basso per 5 minuti circa col coperchio. Una volta trasformati sono così, buonissimi.